Let's go bitches! Ecco qui il video dei 15.000 iscritti, il question and answer e ora siamo arrivati al contest, il contest segreto che vi ho detto molto grande che avrei fatto per voi, arrivati a questo traguardo, sempre ripetendo, grande per uno youtuber emergente come me. Quindi cos'è questo contest di cui vi ho parlato, di cui non vi volevo dire? Bene, è uno Scoof Gaming FPS Competition Pro per Xbox 360. Perché per 360? Perché molte persone non sono passate alla next gen e tra l'altro, piccola chicca, piccolo segreto commerciale che ancora non è stato annunciato, tra tre settimane usciranno gli Scoof per l'Xbox One. Quindi mega spoiler, non potrei dirlo, ma non mi frega niente. Comunque, questo è un FPS Competition Pro. Cos'è un FPS Competition Pro? Bene, è un tipo di pad prodotto dalla Scoof Gaming che ha tutte quelle componenti che vengono usati dalla media dei giocatori professionisti che utilizzano Scoof Gaming. Cosa vuol dire questo che possiede? I due tasti sotto, che sono questi due che vedete, vediamo un secondo se nella webcam si vedono bene, perché non so. Sono questi due, queste due barre, che sono due tasti, che sono rispetto... Vabbè, ce la posso fare, che sono B e A in questo caso. Oltre a questo possiede i trigger stop, che sono, vedete questo dentino? Vediamo un po', vedete questo dentino che faccio così e blocca la corsa, ecco. Quello è un trigger stop. E possiede anche la possibilità di aumentare o diminuire la corsa del grilletto. Oltre a questo non ha lo slow turn, cioè il problema che hanno tutti i pad, comunque Microsoft, cioè che la velocità dell'asse XY dell'analogico destro è ridotta da una parte e dall'altra è velocizzata, quindi è corretto tutto. È un normalissimo pad, è legale, si può utilizzare, cioè non è che sono delle cose per barare, è legale, si utilizzano in tutte le competizioni e in più ha uno squid grip attaccato. Squid grip è questa pellicola che vedete, che serve a non far scivolare le mani e anche a tenere meglio joystick e renderlo più comodo. Quindi questo è il contest dei 15.000 iscritti. Come fare per vincerlo? Bene, dovrete mettere mi piace, scrivere partecipo qui sotto e comunque, se volete, potete anche rispondere con i commenti a quelle che sono le domande che farò a breve, cioè le domande, le risposte alle domande che avete fatto nel video di due giorni fa. Perché ho voluto aspettare così tanto per pubblicare il video dei 15.000 iscritti? Ora abbiamo superato i 15.100? Beh, perché quando ho fatto il video delle prime domande del question and answer, praticamente ho visto che abbiamo fatto più di 100 iscritti, cioè abbiamo fatto 200 iscritti in circa 24 ore. Quindi ho detto no, cavolo, cioè non posso far subito dopo aver chiesto di fare le domande e mettere like il video con le risposte. Devo dare un po' di tempo per far nascere più domande, per dare tempo di fare like. Quindi ho aspettato un pochino, ho aspettato altre 24 ore e oggi sabato, prima serata, ecco qui il video con le risposte. Spero vi piaccia, quindi let's go, partiamo con le risposte. PS, nuovo luogo, cioè la veranda di casa. Nuovo PC, sto usando il laptop perché, come ho detto, il desktop mi si è rotto e non posso fare video nemmeno su dei zii. E anche nuovo look, taglio di capelli. Belli, eh? Solo per i 15.000 iscritti, l'ho fatto solo per voi. Allora, partiamo con le risposte ora, basta cazzate. La prima domanda è di xdavilagu99x, che scrive Qual è il motivo per cui ho iniziato a fare il competitive? Tra questi e questi, lo fai anche per fare due soldi? Bella power, bella davilagu. Allora, beh, diciamo che io il competitive ve l'ho iniziato più che altro perché non provo stimoli a giocare online per un intero anno ad un gioco. Ok, è bello giocare, che ne so, a COD, divertirsi, sparare con gli amici e tutto, però giocare un anno magari di pubblico e così mi annoia a morte. Il competitive è un modo per cambiare, per variare, per poi propormi una sfida, che dove c'è una sfida io mi impegno tantissimo. Anzi, è forse il motivo principale per cui gioco a COD, se no non giocherei senza avere una sfida, un target, un obiettivo. Quindi questo è il motivo principale per cui gioco competitive. Se avessi iniziato con Halo, per esempio, il competitive l'avrei fatto lì. Se non ci fosse il competitive su COD, io ora non starei giocando a COD, penso, perché COD è un gioco che dopo 3-4 mesi hai già fatto tutti i record possibili, hai fatto tutti i prestigi, hai fatto tutte le cose, eccetera, eccetera. Quindi sicuramente non l'avrei continuato se non ci fosse una motivazione dietro a un qualcosa, a un qualcosa che mi spinge a giocarci, che è proprio il competitive. Per quanto riguarda i soldi, no, non è un modo per fare soldi, anzi, se ne fanno molto pochi alla fine con il competitive, a meno che ovviamente non vinci tanto, però devi essere un vincente, per essere un vincente devi avere un team di vincenti con te, non è che lo fa una singola persona. In confronto a YouTube è un modo molto più semplice di fare soldi, comunque. Al momento non ne faccio abbastanza, perché faccio sui... Dipende, non so nemmeno quanto, perché contate che prendo solo il 60% su tutta la cifra, quindi non prendo tanto. Quando comincerò a prendere tanto, comunque, lo saprete, vedrete, perché io tutti i soldi che guadagno tramite YouTube li reinvesto in YouTube, in hardware, oggetti, cose da utilizzare proprio per il canale. Quindi non è un modo per fare soldi sicuramente il competitive, lo potrebbe essere, se è giocato veramente bene ad alti livelli con un team che vince sempre, fa prestazioni ottime, ha un contratto in soldi, eccetera, eccetera. Quindi penso di aver detto tutto. Allora, Krizzy Coddy, spero si dica così perché non ho una più pallida idea, sembra più un codice fiscale questo nome. Allora, quante cam hai mai lanciato? E quale YouTuber seguo di più su YouTube? Beh, quante cam ho lanciato? Non c'è un modo per contarle, ma ne ho lanciate veramente troppe, contando che ho ancora un botto di file registrati con la mia elgato su riguardante cam, eccetera, eccetera. Non ho la più pallida idea, ma sicuro siamo sopra le 100. Sicuro. Eh, ne sono certo. Quali YouTuber seguo di più su YouTube? Beh, diciamo che io YouTube non seguo gli YouTuber, specialmente non seguo gli YouTuber italiani. Perché questo? Perché gli YouTuber italiani riconsidero tutti uguali, tutti che cercano di fare lo stesso umorismo, lo stesso tipo di video, non c'è una differenza, non c'è un termine di paragone, anzi, voglio cercare di essere io il termine di paragone rispetto a tutti gli altri YouTuber, che è, diciamo, la mia ambizione e il perché sono qua su YouTube. Non sono qui sicuramente per guadagnare, perché al momento non si fanno abbastanza soldi. Comunque. Quali YouTuber segui di più su YouTube? Beh, sicuramente... Di quali YouTuber segui di più su YouTube? Questa è una bella domanda, perché non saprei... Ci sono dei YouTuber che mi piacciono niente tante? Uno è sicuramente più Daipai, che tra l'altro conoscete tutti, cioè. Sicuro, ed è anche lo YouTuber più famoso attualmente. Oltre a lui seguo Drifter, per quanto riguarda COD, perché mi piace il suo approccio a COD. È l'unico che fa video di questo genere. Fa dei video dove si concentra veramente sulle specifiche tecniche, pratiche del gioco, meccaniche di gioco veramente studiate nei minimi particolari. Proprio calcolatrice alla mano, spiegando tutte le cose percentuali. Tutte le peggio cose. Quindi anche lui è un ottimo YouTuber. Oltre a questo, uno che seguo, anche... Che mi piace veramente tanto... Eh... Questo è un problema, perché... Ti sa, Frankie on PC, che mi piace anche, che è un giocatore di PC, fa video su PC e mi piace il modo in cui fai video. Molto... Mi piace come li monta, i tipi di video che fa, quindi anche lui è un ottimo YouTuber. Per il resto non seguo YouTuber italiani. Sono tutti YouTuber esteri questi che ho detto. Quindi sono gli unici che consulto, vedo e, diciamo, imparo da loro, perché anche hanno molta più esperienza. Si affacciano a un pubblico più grande e più maturo rispetto a quell'italiano. Quindi è tutto diverso, praticamente. Spero di aver risposto anche a te a questa domanda, perché... Non lo so, era un po' ambigua. Allora, Noiz1337i scrive... Hai mai fatto fighi, fighi, trombato? Beh, guarda, solitamente quando sto con una ragazza a casa, mi piace mettermi sul letto e giocare a scopa con le carte, eh? Cioè, non dico cose sconce, cioè, ti pare. Exet chiede... Parlaci degli accessori per giocare come scuf, control freaks, astro, eccetera. Allora, le astro sono queste qui, sono le cuffie che uso io. E... Perché utilizzo delle cuffie? Beh, perché una cosa fondamentale quando si gioca, ovviamente, sono... Sentire i rumori, perché destra, sinistra, sopra, sotto, avanti, dietro, è importantissimo per capire dove ti spara un nemico, dato che a livelli alti sentire uno sparo, magari, pure a un compagno, che mentre sparano a un compagno e tu sai che ti sta sparando da dietro, evita che ti fanno una doppia. E quindi sono fondamentali, specialmente pure per la comunicazione, perché deve avere un microfono molto chiaro, preciso, non deve... Non deve disturbare la comunicazione, tra l'altro, quindi deve essere fatta abbastanza bene. Quindi il microfono e le cuffie sono importantissimi. Poi lo scuf è una cosa in più. Io, per esempio, non lo uso, perché io utilizzo le dita granchio. Questo è lo scuf, comunque, del contest. Io gioco in questo modo particolare, quindi non lo utilizzo. Però è comunque una cosa utile, lo scuf, perché consente di fare cose che non si potrebbero fare normalmente. Oltre a questo, i control freak sono una cosa, secondo me, personale, perché io, per esempio, non mi trovo bene usando i control freak. Mi trovo malissimo, sono scomodissimi, ma non solo quando gioco con le dita granchio, pure quando un tempo gioco normalmente, ho provato ad utilizzare i control freak, mi sono trovato malissimo. Quindi io, per il mio modo di giocare, non vanno bene. Però sono una cosa sempre fondamentale per alcune persone. Quindi provateli, magari vi trovate bene, costano 3 euro, tipo, quindi, cioè, provate. Se vanno male, amen, cioè. Allora, Emanuele Sgarriglia chiede, come, da cos'è nato il fatto di chiamarti Power? Allora, diciamo che il nome Power, stavo cercando un nome che mi rappresentasse, desse, diciamo, un'impressione di chi sono io, cosa faccio, cosa voglio fare. E quindi la parola potere è subito saltata all'occhio. Però non sapevo come scriverla, avevo dei dubbi. All'inizio, infatti, la mia prima tag era Powa, con la P grande, il 4 al posto dell'A e l'H finale. Poi, piano piano nel tempo, l'ho modificata da Power con P grande e R grande alla fine, sempre con il 3, poi fino a Power con la P piccola, o, eh, fia col 3. Perché questo nome? Beh, non volevo cercare un nome italiano, perché l'ambiente in cui avrei giocato, perché è stato proprio l'inizio del mio, del competitive che ho usato questo nome. Quindi ho deciso di utilizzare quello che è un nome in inglese, che però si riferisse anche al mio modo di giocare, di fare le cose, quindi potere. Diciamo che è stata una cosa molto buffa, secondo me, come è nato, con la trasformazione Powa, Power, Powo anche, perché a un certo punto ho avuto degli, diciamo, dei sinonimi con cui mi ho chiamato Powo, Powa, eh, così, e allora mi ero cambiato i nomi alcune volte quando sono entrato in certi team, solamente temporaneamente in questo sinonimo, quindi, in particolare, Powo, ancora ci penso. Ferro78 Games chiede, qual è il capitolo di COD che ti è piaciuto di più? Allora, il capitolo di COD che mi è piaciuto di più è sicuramente Black Ops 2. Perché non COD 4? Perché COD 4 è stato bello perché ha portato la rivoluzione in quello che era un FPS come COD, tutto uguale, eccetera, eccetera, e ha anche rivoluzionato gli FPS in generale, multiplayer. Penso che COD 4 non possa più essere considerato il migliore perché se si utilizzassero le conoscenze che abbiamo adesso e giocare a COD 4 il gioco diventerebbe uno schifo totale. Black Ops 2, invece, penso sia il gioco, il COD migliore sempre. Ha portato un'innovazione grandissima attraverso il sistema della Lega, attraverso le competizioni. Ha premuto molto su quella che è proprio la competizione, il giocare per divertirsi competendo. Quindi non più giocare così come un passatempo, quindi il classico gioco da Nubby Camper come sempre. Ha portato quella cosa in più, quella spinta, quella piccola cosa che secondo me l'ha reso il COD migliore di tutti i tempi. Con tutto che aveva dei problemi, e ogni COD ha problemi, come Ghost ne ha 100.000, ne aveva 100.000 pure Black Ops 2. Il punto è che era bello, era divertente, quando lo mettevi dentro ti divertivi a giocare pure pubblica, e comunque non scleravi quanto scleravi sugli altri COD sicuramente. Allora, Sorton Pai chiede peggior cosa fatta a scuola. Love, much love pure per te. Bene, allora, il primo anno di liceo ero seduto a uno dei primi banchi nella parte destra e stavamo cazzeggiando tirandoci cose da parte a parte senza farle vedere alla prof, quindi scavalcando palesemente la prof. La prof si alza per spiegare delle cose, io prendo una gomma intera, le stedler quelle grosse blu, la prendo, faccio così per lanciarla e la prendo in testa piena. La prof si gira facendo chi è stato, io mi sono messo in questa posizione, improvvisamente sono diventato rosso completo, tutti che mi guardavano così con lo sguardo ora sono cazzi tuoi. Sono stati i cazzi miei alla fine. Allora, Shadow0309 chiede qual è stato il tuo primo gioco? Allora, il mio primo gioco è stato per il Nintendo 64, che è stata anche la mia prima console, Super Mario 64, che è un gioco bellissimo, lunghissimo e difficilissimo per un ragazzino. È veramente uno dei giochi che mi ha portato ad appassionarmi per quelli che sono i videogiochi, Super Mario 64, sì, è stato proprio quello, cioè, un gioco che veramente me lo ricordo ancora, che una volta era andato davanti, il gioco funzionava praticamente, che c'erano dei quadri in cui tu potevi entrare se avevi un tot di stelle, o attraverso le stelle che prendevi nei vari quadri, potevi aprire nuove porte e andare in altre reale. Io praticamente una volta ero andato tipo nell'ala finale, dove poi si giungeva al boss finale, mi ero messo là per premere i tasti a cazzo ed avevo aperto la porta, cioè avevo fatto tipo un glitch, non lo so cose, un bug, un cheat, non lo so, ed ero entrato nella porta, me lo ricorderò per sempre che sono andato all'inizio del gioco, dal boss finale, e sono stato schiantato brutalmente e non riuscivo a capire il perché, una cosa fighissima. Mi sento male a rispondere a questa domanda, sei proprio stronzo, te lo dico. Bag Airsoft chiede, quanto ce l'hai lungo? Secondo te perché faccio i video a metà busto? Allora, Tupac Chaos chiede, dici, secondo te il miglior giocatore europeo competitive è il clan più forte per te, è il player più forte al mondo e il clan più forte al momento, e se proprio vuoi esagerare è il miglior player e clan di tutti i tempi a livello mondiale? Allora, il miglior giocatore europeo secondo me è Jurd, contro cui ho avuto anche l'occasione di giocare diverse volte, e secondo me è uno dei giocatori più forti che ci sono in Europa. Per quanto riguarda il clan più forte, beh, sicuramente gli Epsilon erano gli unici, diciamo, erano l'unico team europeo costante, erano in grado di competere in hardpoint con il team impact, i farico impact, che erano un team assolutamente sgravato in hardpoint, quindi, sicuramente loro. Il player più forte al mondo è il clan più forte al momento, il player più forte al mondo, secondo me è Crim6x, perché è un player che anche quando sta perdendo gioca al massimo sopra a quello che è per fine il suo livello, è incredibile, i complexi sono il miglior team secondo me al momento, perché TP e Ashes hanno un teamwork assurdo, giocano da anni assieme, Crim6x insieme a loro si è integrato benissimo, quindi qualsiasi giocatore gioca con loro, che sia Karma, che sia Clayster, che sia un altro, sarebbe sempre il miglior team al mondo. del miglior giocatore di sempre, di tutti i tempi, questa è una cosa difficile, perché il miglior giocatore, diciamo, di tutti i tempi varia anche in base al periodo, perché non tutti i giocatori rimangono allo stesso livello, piano piano arrivano altri team, arrivano altri giocatori nuovi, si sfaldano i team, quindi le cose cambiano, va molto in base al team, non al singolo giocatore, quindi non c'è proprio questo, però secondo me i complexity stanno veramente distruggendo tutto e tutti, è qualcosa di incredibile, perfino quando stanno perdendo 2-0 in mappe, in una best of five, quindi che basta l'avversario vincere una mappa, loro sono in grado di vincere 3-2, qualcosa di incredibile. Let's go bitches, siamo arrivati alla fine di questo question and answer, anche video di ringraziamento per i 15k, e anche un contest, vi ripeto un'altra volta che per vincere lo Scoof Gaming dovete essere ovviamente iscritti al canale, quella era palese, cioè per forza, mettere mi piace al video per forza, e basta se volete anche scrivere sotto partecipo come volete, ma non serve, perché io vedrò dai mi piace, il gioco, diciamo, la persona verrà scelta random, totalmente random, non so nemmeno io come, penso di fare tipo scroll così a caso, se no di fare tipo un amico mio, dimmi un numero, da 1 a 8 mi piace, lui mi dice il numero, lo scendierò, non lo so ancora come sceglierò casualmente, però ci penserò. Comunque spero vi sia piaciuto questo video, e scusatemi se non è come gli altri, però, non lo so, ho voluto provare a cambiare tipo di vlog, comunque sto anche facendo tutto con il laptop, che è un problema, con questo cazzo di tastierino di merdo, è difficilissimo metterlo a posto, cioè non metterlo a posto, montare i video col, come si chiama, col coso con il dito per muovere il cursore, cioè una cosa, incredibile. Comunque spero vi sia piaciuto, bitches, ci becchiamo al prossimo video, let's go!